E da questo viaggio nel passato noi facciamo un altro tipo di viaggio un po' più particolare attraverso, superando i limiti e anche le barriere architettoniche. E' il viaggio all'insegno dell'avventura e della solidarietà che i due ragazzi da tre anni stanno compiendo in carrozzina. Questo viaggio fa tappa in Basilicata. Sono dunque qui con noi Danilo Ragona e Luca Paiardi accompagnati da Cristina Menta di Materamare. Buongiorno. Buongiorno. Allora, il vostro è anche un viaggio per cercare di capire quanto il nostro paese è accessibile. Nel vostro viaggio però sono sempre presenti due elementi, lo sport e la visita alle unità spinali. Perché? Esatto. Il mio e di Luca è un viaggio fatto di esperienze per raccontare le cose che si possono fare nonostante la carrozzina. Un viaggio dove raccontiamo come la tecnologia oggi ci aiuta comunque a essere autonomi e indipendenti in tantissime situazioni più o meno estreme. E poi questo viaggio lo raccontiamo. Quindi andiamo nelle unità spinali a cercare di portare un messaggio positivo che si può fare. Ecco Luca, per quanto riguarda il vostro viaggio in Basilicata siete stati praticamente, avete toccato dappertutto. Matera, Sasso di Castaldo, avete fatto il volo dell'Aquila a San Costantino Albanese, avete visto Anzi, Latronico. Il turismo accessibile in Basilicata oggi secondo voi è possibile? Cosa manca? Assolutamente sì, è possibile. Noi siamo qua proprio per cercare di dare un abbrivio maggiore a questa che viene considerata una nicchia di mercato. Perché poi quando si parla di turismo accessibile non è solo una questione sociale, è una questione etica ovviamente, ma è anche una questione di mercato. E quando noi siamo nei nostri viaggi raccontiamo sempre che nel mondo parliamo di un miliardo di persone con disabilità, quindi è una grossa nicchia di mercato. Immaginiamo che tutte queste persone possano viaggiare, possano usare anche i loro soldini, perché chi ce li ha ha piacere magari di andarsene in vacanza o avere delle esperienze come tutti noi vogliamo avere. E quindi in questo senso la Basilicata offre molto, soprattutto offre per la volontà delle persone. In questo abbiamo trovato delle persone che ci hanno molto incoraggiato, sostenuto e che hanno voglia di lavorare su un'attività nuova che possono migliorare le condizioni di vita per tutti. Cristina, voi come Matera Mare cosa si sta facendo in maniera pratica per cercare di aumentare la possibilità di abbattere le barriere architettoniche? Allora, intanto Matera Mare è un progetto che è partito dal nostro gruppo di ricerca, ma che è stato sostenuto e voluto dalla regione Basilicata, quindi è già una prima azione. Con Luca e Danilo abbiamo verificato, ma lo facciamo già da un anno ormai, che anche in Basilicata ci sono le possibilità per creare e per sviluppare questa nicchia di mercato. Quello che cercheremo di fare da ora in avanti e che continuiamo a fare con le istituzioni e con i preguati è quella di capire quali sono le condizioni per poterlo fare, perché è vero che con Luca e Danilo abbiamo fatto tantissime cose e tantissime attività sportive, ma da qui a dire che effettivamente si possano ospitare persone in carrozzina nella nostra regione passa ancora tantissimo lavoro. Il percorso è ancora lungo. La tappa Basilicata di Viaggio Italia è stata sostenuta, oltre che dalla regione, che ha avviato il processo condividendolo in licenza aperta. Questa è una cosa importante, perché la condivisione in Creative Commons consente agli altri istituzioni e privati di poter entrare a far parte di questo progetto dando il loro contributo e il loro pezzo. La tappa Basilicata è stata sostenuta dalla Fondazione Mattei e dalla PT Basilicata, oltre che dalla nostra grande volontà di portare avanti questo progetto. Il viaggio non termina qui. Oggi dove sarete ancora in Basilicata? Oggi siamo a Monticchio, chiudiamo nel Vulture e invitiamo a proposito tutti oggi alle 5 e mezza al Parco Rapaci Arte Venandi di Melfi per la conferenza stampa, dove racconteremo le avventure di questa tappa Basilicata 2017. Grazie e allora buon viaggio.